Perché sei al GF VIP? GF VIP, bomba su Soleil Sorge. Gian Maria Cantà, fa il nome del VIP complice Anche il pre-puntata del GF VIP è stato a dir poco incandescente. La notizia è venuta fuori solamente ora e il video sta diventando virale, infatti Gian Maria Antinolfi ha fatto una pesante accusa a Soleil Sorge E c'è anche un terzo soggetto ad essere stato messo in mezzo, quindi non è da escludere che possano esserci strascichi anche nelle prossime ore Il battibecco è cominciato, nel momento in cui la ragazza ha iniziato a provocarlo con una dichiarazione pungente. Ma lui ha poi dato il meglio di sé Dopo l'appuntamento in diretta, Soleil Sorge si è appartata con Manila Nazaro e le ha confidato che vorrebbe uscire dal programma Ci sono troppe situazioni che non mi piacciono più, comunque io mi sa che faccio campagna elettorale per farmi uscire fuori questa settimana, perché qua dentro non ce la faccio più Perché non devo dirlo? Questo è quello che penso ti giuro. La Nazaro però ha cercato di far cambiare idea a Soleil Sorge, non devi dire queste cose nemmeno per scherzo Mentre si trovavano a dialogare, Soleil Sorge ha immediatamente messo sotto tiro Gian Maria, infatti gli ha detto che lui è famoso esclusivamente per la relazione sentimentale avuta con Belen Rodriguez Solo per questo fai parte del cast del grande fratello VIP. Ti ricordo che quello che si trova qui perché è uscito sui giornali con qualche donna sei tu, di certo non io Ma Antinolfi ha replicato, accusando la compagna di avventura di aver organizzato un avvenimento. Chissà se e quando finiranno queste polemiche E a quel punto ecco arrivare la bordata di Gian Maria Antinolfi, che ha rivelato un retroscena di Soleil Sorge con Andrea Iannone, e tu per una paparazzata organizzata da te, pensa un po', con Iannone. L'hai organizzata tu Lei è apparsa molto nervosa per questa insinuazione, ma ha preferito mantenere il silenzio forse per non far degenerare la situazione Staremo a vedere se ci sarà una smentita ufficiale sia da parte della vippona che dal motociclista, tirato in ballo senza che avesse la possibilità di replicare E un utente ha commentato così, Gian Maria, zittendo la bulletta e dicendole che è lei ad organizzarsi le paparazzate e lo ha fatto anche con Iannone. Adorissimo E altri, non capisco che dice, aiuto, ops, Soleil ha smesso di funzionare, Gian Maria ha iniziato ad attaccare Soleil senza motivo, con un'uscita che poteva benissimo risparmiarsi. Solo perché lei è in nomination Iscriviti al nostro canale